Ciao a tutti e benvenuti alla sede du Soleil. Finalmente siamo arrivati tutti quanti, sono arrivati tutti i professori, sono arrivati tutti i team che adesso sono riuniti all'interno del lago Ra, lo spazio più grande che c'è alla sede du Soleil. Noi siamo agitatissimi perché finalmente sta iniziando la nostra grande avventura. Dopo un anno di lavoro siamo qui, vediamo tutti le altre persone che hanno combattuto come noi per arrivare fino a qui. Quindi è una bellissima esperienza che siamo sicuri che andrà a buon fine in qualsiasi caso. Speriamo di divertirci, speriamo che vi divertiate anche voi con noi, domani si comincia a costruire, continuate a seguirci, Dai e Versailles!